dopo le montagne russe del napoli prima la vittoria con la juve poi la sconfitta suonante contro la fiorentina il napoli torna al san paolo e vedremo questo napoli torino alessia sei pronta prontissima beh il napoli continua a tenere vive le speranze allora vi consiglio terza posizione risultato esatto 4 1 per il napoli a 14 però la tocca piano l'avventura 4 a 1 diretto invece attenzione un po di dinamica perché bello e strategia si può giocare e si può stare a ragionare primo tempo pareggio secondo tempo vittoria del napoli quindi pareggio primo tempo vittoria del napoli secondo tempo a 4 e 40 prima posizione invece beh sarà una una partita straordinaria allora vi consiglio più di quattro gol quindi over quattro e mezzo a 355 bello che entrate in punta dei piedi lo sapete sai se mi spiegate qualcosa di qua è over quattro e mezzo pareggio prima e poi 5 a 1 e poi 4 a 1 ok è bello così perché ci si può divertire alessia avventura ciccio valenti giocate con la festa con la capa capa tanta eh capa capa